Sette vittorie nelle ultime otto partite, l'ultima ai danni del Bitonto, finisce 2-1 per il team Altamura, il match del D'Angelo, incontro ricco di emozioni, il cui risultato permette ai Murgiani di mantenere la vetta solitaria della classifica, tenendo a tre punti di distanza il Nardò. Mister Giacomarro affida l'attacco del suo 4-3-3 al tridente Saraniti lo iodice a Diego Mobilio, dall'altra parte Modesto schiera il 3-5-2 con Palazzo e Figliolia in avanti, bastano pochi minuti al team Altamura per sbloccarla, minuto 13 Saraniti porta in vantaggio i Murgiani con un colpo di testa ravvicinato, su azione da corner, subito festa al D'Angelo, il Bitonto risponde al 17esimo con la punizione di Palazzo, colpo di testa di Gomez, ottima la risposta di Fernandez, poi la difesa si rifugia in angolo, al 27esimo sale in cattedra lo iodice, sinistro di poco a lato, al 35esimo Bitonto pericoloso con questo colpo di testa Fernandez para, al 40esimo ci prova di testa anche Bertolo, Diamè blocca senza problemi, Altamura avanti all'intervallo. Nella ripresa partono ancora meglio i padroni di casa, Maccioni sfonda a sinistra, poi calcia forte e alto, al 51esimo lo stesso Maccioni alimenta l'azione che porta Bolognese al tiro da fuori e al gol, e 2-0 team Altamura. Altamura, il Bitonto accuse il colpo e al 60esimo lo iodice su punizione costringe Diamè al tocco in angolo, al 64esimo sempre il numero 10 in maglia murgiana, semina il panico in aria, Diamè esce bene e lo chiude, al 72esimo ci prova anche Molinaro, si distende Diamè. Altamura che sembra in controllo totale del match, ma al 74esimo il Bitonto accorcia le distanze con De Michele, abile a finalizzare nel cuore dell'area altamurana, e il team Altamura ora ad accusare il colpo all'82esimo, infatti Espinar ha una chance per il pari, ma manda la sfera alta. I ragazzi di Giacomarro fiutano il pericolo e si rituffano in avanti, minuto 87, Dinocenzo calcia dalla distanza, Damè in angolo, dagli sviluppi del corner Molinaro sotto misura divora il terzo gol del team Altamura, domenica da dimenticare per l'attaccante che al 92esimo sciupa ancora per la disperazione dei tifosi che temono la beffa finale. Al 95esimo il Bitonto prova l'arembaggio, ma nessuno si fionda su questo pallone che attraversa tutta l'area altamurana, finisce così con la vittoria della capolista, mercoledì si torna in campo prima della pausa natalizia, Altamura di scena a Matera, Bitonto che attende in casa il casarano.